Cari fratelli e sorelle, sia lodato Gesù Cristo. La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo e voi chi dite che io sia? Nella pagina evangelica che è stata letta Gesù ci fa questa domanda. Da quando è comparso sulla terra, egli è sempre stato per gli uomini un enigma inquietante. Ma chi è Gesù? Ecco, oggi egli stesso provoca questa questione. Sembra dirci che un conto è andare ad ascoltare la gente, cioè le opinioni correnti, e un conto è andare a cercare la risposta dei suoi apostoli, cioè della Chiesa. Il mondo ci dà come risposta tanti molteplici pareri, che messi insieme sono anche una grande confusione. Alcuni dicono, altri ancora, altri. Mentre la Chiesa, per bocca di Pietro, ci dà come risposta la verità, che è sempre una sola e resta sempre uguale nei secoli, immutata. Ma chi è allora Gesù? Forse è un genio che ha intuito prima di tutti gli altri i problemi della giustizia, dell'amore, che sono nel cuore dell'uomo? O un folle che è arrivato a credersi il figlio di Dio? Egli è un grande maestro di vita? O un rivoluzionario fallito? Un grande personaggio della storia, ma defunto e quindi da commemorare? Che non può salvarci perché è morto? Non vive più? O addirittura un esaltato che ha chiesto ai suoi discepoli di amarlo più del padre e della madre? Ecco, da ognuno di noi Gesù aspetta una risposta personale. Una risposta che non sia convenzionale. Dette con le parole dettate dalla cultura dominante. Gesù si aspetta una risposta non imparata a memoria nel catechismo. E anche gli altri aspettano da noi una risposta concreta, convinta, entusiasta. Ecco, dunque non dobbiamo qui dimostrare di sapere la lezione, ma di aver imparato lui, il maestro. L'unica risposta vera e soddisfacente ci viene dalla Chiesa, però. Pietro gli risponde, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco, gli dice che è il Cristo, cioè il Messia, colui che gli uomini hanno atteso da sempre, colui che è stato mandato a noi da Dio per ricondurci a Dio, mandato da Dio per rivelare l'uomo all'uomo e per guidare l'uomo al destino che è stato pensato per lui. Tu sei il figlio del Dio vivente, cioè il Dio che vive e dà vita, il Dio che è il centro e il senso del nostro esistere. Figlio del Dio vivente perché la vita è sua, tanto che se la morte lo ha potuto ghermire misteriosamente, certo non lo ha potuto tenere nei suoi lacci, perché egli è risorto e oggi è vivo. Ecco, allora se guardiamo, nella risposta di San Pietro, c'è inclusa una professione di fede, è una profezia, la fede nella divinità di Gesù, la profezia della sua risurrezione. E anche la risposta di Gesù a Pietro è piena di luce e dobbiamo meditarla. Gesù dice a Pietro, Beato, Beato non perché hai parlato di Cristo, ma perché hai intuito il mistero di Cristo. Perciò non ci procura salvezza il fatto di parlare di Gesù e salvifico coglierne il mistero di vita. Nell'adesione sincera e sconvolgente di tutto il nostro essere a Lui, non la carne né il sangue te l'hanno rivelato, dice Gesù a Pietro. Ecco, nessun ragionamento umano porta a questo tipo di conoscenza che ci salva. non sono i ragionamenti, non è l'erudizione delle ricerche storiche o le discussioni accalorate che ci possono condurre alla conoscenza vive e trasformante del Signore Gesù, ma soltanto il dono del Padre, il dono della fede che il Padre fa a chi non chiude il suo cuore per non lasciarsi salvare. Inoltre Gesù profetizza e fonda anche la sua Chiesa, dice a Pietro su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Compare sulle labbra del Signore per la prima volta la parola Chiesa e lo fa in una frase che già rivela tutto l'amore per essa, la chiama la mia Chiesa. Come a dire che solo nella sua Chiesa e non in qualunque raggruppamento religioso si ha la garanzia di trovare veramente la conoscenza piena di Cristo e perciò la salvezza sicura. La mia Chiesa vuol dire che la Chiesa è sua e di Gesù nessuno gliela può rubare. La Chiesa è sua e non può sfuggirgli di mano e perdersi nell'errore. La Chiesa è sua e nessuno può impunemente insultarla o avvilirla. Ecco, tante volte noi diciamo di amare il Signore di credere in Lui e di credere anche nella Chiesa ma idealizzando anche il concetto di Chiesa e nel frattempo ci concediamo anche la libertà, il lusso di parlare male ecco, della Chiesa come realtà in cui viviamo però e invece la Chiesa è di Gesù. e se la Chiesa è di Cristo nessuna potenza umana potrà distruggerla. Ecco, Napoleone Bonaparte minacciò il cardinale Consalvi che era il segretario di Stato di Pio VII dicendo io distruggerò la vostra Chiesa e la risposta del Consalvi fu maestà non si scomodi perché tanto non ci riuscirà non ci siamo riusciti neanche noi preti con le nostre fragilità a distruggerla. Ecco, infatti Gesù dice le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. E per questa promessa la Chiesa è la cosa più forte del mondo. Sebbene sia fondata sulla cosa più debole cioè la fragilità di un uomo è fondata su Pietro che vive nel suo successore il Vescovo di Roma un uomo debole che qualunque sicario può facilmente colpire come vedemmo purtroppo con San Giovanni Paolo II ma che ha sempre con sé la forza di Dio. Ecco, ha detto Sant'Ambrogio dove c'è Pietro lì c'è la Chiesa. Ecco, allora siamo sicuri sebbene la nostra Chiesa sia macchiata dalle ombre della fragilità degli uomini siamo sicuri di stare nella Chiesa di Gesù dove c'è Pietro il suo successore e chi tende ad edificare al di fuori di questa pietra non è col Vangelo di Cristo non è col pensiero del Signore e quella che costruisce è una casa che vuole fondare sulla sabbia. Buona domenica a tutti. a tutti. Buona domenica